L'obiettivo è chiudere il bilancio quantomeno in pareggio. Anche se non direttamente il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, Fabrizio Lungarini, risponde così alle polemiche degli ultimi giorni, partite nell'ultimo Consiglio Comunale sull'assestamento di bilancio e relative alle perdite per la partecipata del Comune di quasi un milione di euro nei primi sei mesi del 2022. Numeri che sono confermati dal numero 1 di CSP, si parla di oltre 800 mila euro, ma che preoccupano parzialmente, anche perché dovuti a cause di forza maggiore, legate alle conseguenze della guerra in corso tra Russia e l'Ucraina. Abbiamo a che fare con una serie di agenti esogeni sui quali non possiamo intervenire, spiega Lungarini, come l'aumento del gas metano per autotrazione, il cui costo è passato da 0,8 euro agli attuali 1,8 euro al chilogrammo e che incide in modo significativo sui nostri mezzi che viaggiano per 600 mila chilometri all'anno. Discorso analogo per il costo del ferro e quindi delle paline e dei cartelli che devono essere installati in città. Ma stiamo trovando la soluzione perché puntiamo a chiudere il bilancio 2022 almeno in pareggio. Proprio per questo il presidente Lungarini ha fissato un incontro con il socio unico, il Comune, per i primi giorni di settembre, al fine di illustrare l'aggiornamento del piano di risanamento già in atto che contiene una serie di manovre in grado di invertire la tendenza nella seconda metà dell'anno. Senza considerare, ricorda l'Avvocato, che CSP deve ancora ricevere 300 mila euro di contributi Covid, in parte relativi al 2021 e in parte al 2022, arrivati a Palazzo del Pincio e non ancora elargiti alla partecipata. Tra i punti che saranno posti all'attenzione del controllo analogo e del socio unico quello di saltare un ritiro dell'indifferenziata ogni due settimane, l'appuntamento diventerebbe quindi quindicinale, l'installazione di ecostazioni con tessere e telecamere e la creazione di un ufficio dedicato alla partecipazione a bandi in autonomia rispetto a Palazzo del Pincio. Ritirare meno indifferenziata, spiega Lungarini, ha senso proprio per l'obiettivo della raccolta differenziata stessa, quello di differenziare bene ed il più possibile i rifiuti. Ci sono tante idee in ballo, non capisco la polemica sui soldi che il Comune ci ha corrisposto e ci corrisponderà, visto che sono perdite Covid certificate. Lungarini risponde anche alle critiche sugli aumenti di livello di parte del personale che secondo il PD inciderebbe per 500 mila euro sulle perdite del primo semestre. Sono numeri buttati là a caso, conclude, secondo me abbiamo gestito al meglio le 30 conciliazioni che solo in parte sono legate a livelli concessi, a volte anche per adeguamento al contratto collettivo nazionale come nel caso dei farmacisti. Ci sono anche prepensionamenti che ci sono stati richiesti dal socio unico. Siamo sotto organico, il Consiglio Comunale ci desse la possibilità di limitare gli interinali e di tornare ad assumere. Grazie. Grazie. Grazie.